Amori miei, eccoci qua di nuovo a Piccole Magazine. Cogliamo l'occasione per salutare anche allo staff di Piccole Magazine, a tutti i ragazzi che stanno là in redazione, a tutti voi che ci stanno dando il supporto, alla famiglia di Piccole Tresgressioni e ovviamente a tutto lo staff del Misty World 2024 dove siamo qua a Brescia. Oggi siamo già in compagnia di Nikita. Nikita è una delle concorrenti del Misty World 2024, parla inglese, poi parleremo con lei per tutti voi. Come ti sei, Nikita? Mi faccio bene, è stato un giorno, è stato un giorno lungo qui. Sì, sì, questo è il primo giorno delle attività del Misty World 2024. Cosa è la sua energia? La mia energia è solo... è nerviare in primo momento, ma sicuramente bisogna fare divertimento di tutto, perché ciò ci mostrerà che stai divertendo e questo è quello che è importante qui. Cosa ti piace? Mi piace molto, credo che questa è una delle esperienze migliori che ho avuto nella mia vita. E' stato molto memorabile che potrei competere qui, internazionale. È la tua prima volta competendo in un contesto internazionale? Sì, è la mia prima volta. E come è la tua esperienza? La mia esperienza è stata davvero buona, perché gli organizzatori sono molto dettagli, e sapevano cosa è stato fatto durante il giorno e durante tutti i giorni della competizione. Quindi è molto organizzato. E posso dire che è un sistema buonissimo qui. Cosa ti piace per cambiare se ti vedi questo contesto? Se io voglio cambiare qui, in Misty World? Io sono caught off guarda. Io non ho aspettato questa domanda. Ma se c'è qualcosa che volevo cambiare? Io voglio molti di ragazze di ragazze di ragazze di ragazze. Ci saranno più ragazze di ragazze di ragazze di ragazze. E così, è più divertente qui. E potrebbero capire questa prima volta di un'altra vita. Qui in Misty World. Grazie, grazie. Ti stai sempre preparate. Ti sei così intelligente. E allora, cosa vorrei vedere la differenza in la beauty contesto? A differenza tra le prezzi di ragazze di ragazze di ragazze. La differenza tra ragazze di ragazze di ragazze. Tπως ragazze di ragazze di ragazze di ragazze. La comunità della gistrina delle ragazze è molto rilasciata. Soprattutto in questo paese di ragazze. Io moro in Europa. And I think that the more visibility that we have here in the trans women pageantry, I think that it is something that we should always work hand in hand. So if there is something that is different from other beauty contests, I think trans women is unique. I think trans women beauty pageant is unique on its own way because we really give our all of our 101% in order to win this pageant. And not just that, it's because all of the friendship that we built here is something memorable and that will always give us the memory at the end of the day. Talking about the friendship, what would you like to say to all your friends in Instagram, in all your social networks? Yes, to my friends, my family back home in the Philippines, all of my supporters, I would like to take this opportunity to thank all of you. Dios mabalos se indogabos. That is a thank you in our language. And please keep on supporting me, the finale of Misty World 2024 on September 21st. Thank you. Thank you, thank you. Family, give her all the support and all your friends and we are your friends and you are our best friends. Thank you.